Il regolamento d'ora sarà concepito per garantire un solito monitoraggio dei rischi relativi alle TIC derivanti da terze parti, ciò indipendentemente dalla natura di outsourcing o di forniture diverse dalle esternalizzazioni, quale ad esempio l'acquisto di beni o di servizi. Il regolamento d'ora armonizza gli elementi essenziali dei servizi TIC e dei rapporti con i fornitori terzi di TIC. Tali elementi saranno cruciali per il sistema di monitoraggio e verranno abilitati nell'ambito della gestione del rapporto con i fornitori in tutte le sue fasi, dalla stipula del rapporto contrattuale all'esecuzione, all'estinzione e alla fase post-contrattuale. È prevista una convergenza per quanto riguarda gli approcci di vigilanza ai rischi relative alle TIC derivanti da terzi, sottoponendo in particolare i fornitori terzi di servizi TIC critici ad un quadro di sorveglianza dell'Unione. Con un quadro legislativo armonizzato, l'autorità di vigilanza europea, designata come autorità di sorveglianza capofila per ciascun fornitore terzo di servizi TIC critici, saranno conferiti i poteri idoni a garantire l'adeguato monitoraggio su scala panoeuropea dei servizi tecnologici che assolvono la funzione critica per il funzionamento del sistema finanziario. Grazie a tutti!